Per martedì 14 febbraio 2017 non prendete impegni. All'interno della biblioteca dei ragazzi di Piazza Garibaldi 24 a Monopoli si terrà un'iniziativa bellissima denominata l'altra faccia dell'amore. È un'iniziativa promossa dall'Associazione Turistico-Culturale di Promozione Sociale Tu Monopoli che mi onoro di rappresentare in collaborazione con l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia Gruppo di Monopoli e con il Rotary Club Monopoli. Quest'iniziativa mira a valorizzare l'immenso ed inestimabile patrimonio storico, artistico, archeologico e culturale della nostra bellissima città Monopoli attraverso delle inedite visite guidate all'interno della cripta Prospero Rendella. Vi assicuriamo che ci saranno pochissime e rarissime occasioni per poterla visitare. È davvero un posto molto suggestivo, un sito archeologico degno di nota. Perciò vi invitiamo calorosamente a venirci a trovare nella sessione pomeridiana. Infatti il 14 febbraio sarà un'intera giornata dedicata all'amore. L'amore in tutte le sue sfaccettature. L'amore soprattutto verso la natura, l'amore verso l'ambiente. Quindi sarà data grande importanza alla salvaguardia ambientale, argomento che tratteremo attraverso la visione di alcuni documentari nella sessione mattutina dedicata agli studenti delle scuole cittadine, ma anche nella sessione pomeridiana durante la quale sarà infatti proiettato Trashed verso rifiuti zero, un documentario dedicato al ciclo dei rifiuti. Si parlerà anche di mobilità sostenibile e naturalmente di raccolta differenziata. A Monopoli infatti è stato inaugurato recentemente il centro comunale di raccolta. Sarà anche un modo per parlare di questo e illustrare magari i dettagli su come poter migliorare la nostra città e naturalmente tutto il territorio. Dobbiamo infatti valorizzare e tutelare i nostri beni artistici e culturali. E quale migliore occasione di questa? In questa occasione ci sarà anche la possibilità di fare dei romantici giri in gozzo dalle ore 19 a Cala Portovecchio a cura della Naval Service. Vi invitiamo perciò a prendere nota, a segnarvi la data, 14 febbraio 2017, all'interno della Biblioteca dei Ragazzi di Piazza Garibaldi 24, a Monopoli, per tantissime attività culturali. Nella sessione pomeridiana vi anticipiamo che ci sono anche una maratona di letture. E naturalmente sarà possibile visitare la terza edizione di Monopoli in uno scatto, una mostra fotografica itinerante che per la seconda edizione è denominata Immortalando i tesori nascosti di Monopoli. Perciò non vi resta altro che venirci a trovare. Vi aspettiamo. Alla prossima.